Buongiorno a tutti. Anche a Trieste si vota il 3-4 ottobre ed è un importante momento per l'esercizio del diritto al voto e della partecipazione democratica delle cittadine e cittadini, ma è ed è stato per noi il momento per portare al centro del dibattito politico i temi del lavoro e i temi sociali. Trieste è una città che ha delle opportunità da un punto di vista futuro, della progettazione del futuro, con lo sviluppo del porto, con la possibilità di sviluppo di nuovo manifatturiero collegato alle attività del porto, ma che porta con sé anche seri problemi da un punto di vista sociale per effetto delle trasformazioni digitale e le trasformazioni nel contesto produttivo, ma anche un enorme problema da un punto di vista demografico. È una città che sta invecchiando, abbiamo perso negli ultimi 5 anni 7.000 persone dai 30 ai 44 anni e sono tutti temi che vanno affrontati con serietà e progettualità. Noi abbiamo affrontato questo percorso unitariamente con Cisle Will portando al centro i temi sociali e i temi di lavoro. L'opportunità di rigenerare un 30% di territorio in più che è stato riconsegnato con la sdemalizzazione del porto vecchio è una delle sfide principali che questa città ha di fronte. Noi partiamo da un presupposto della necessità di una forte partecipazione delle cittadine e dei cittadini e quindi anche delle forze sociali in una progettualità del territorio attraverso l'ascolto dei bisogni e politiche che tengono assieme le questioni urbanistiche con le questioni sociali, le questioni sanitarie ma le questioni lavoro. Da un punto di vista del lavoro noi crediamo che la sfida più importante è quella di connettere i nuovi investimenti sul porto con delle nuove realtà produttive manifatturiere in grado di affrontare i nodi della debolezza economica che questa città ha particolarmente terziarizzata e che quindi ha bisogno di disarticolare ulteriormente le capacità di produzione economica del territorio. Concludo dicendo che per noi è stata una sfida importante quella di portare su una dimensione territoriale l'ambito di azione della Camera di lavoro, delle categorie nell'idea e nella necessità di rafforzare la rappresentanza sociale sul territorio. Abbiamo riscontrato una volontà da parte dei candidati che afferiscono al centro-sinistra di affrontare il tema della discussione e il confronto con le parti sociali mentre abbiamo trovato una forte riluttanza da parte della destra e questo ha pesato ovviamente nel giudizio che la Camera di lavoro ha espresso in questo percorso. Mi auguro che le cittadini vadano a votare è un momento che noi dobbiamo attenzionare particolarmente perché la partecipazione al voto, la partecipazione alla vita democratica del nostro paese, dei nostri territori sono elementi fondamentali per affrontare le sfide future in un'ottica di tenere assieme le persone e di non lasciare nessuno indietro.